buonasera a queste belle signore siamo al teatro nazionale che banca dove in scena flash dance e si preparano ovviamente perché fra poco si va in scena buonasera al te a russo stai cercando di darmi giusto quei 40 anni in più si deve invecchiare ovviamente notate la mia bellezza allora al te a russo raccontaci il tuo personaggio meraviglioso il mio personaggio che nel film è un po più piccino è molto diverso nel musical ha più spazio diciamo così e quindi la nostra simpatica eroina anna che aiuta alex ad andare via dal paesello per arrivare a pittsburgh continua a sostenerla anche attraverso delle lezioni di danza per dare la possibilità di entrare alla shipley a questa accademia così importante non posso dire di spoilerare niente perché il film che tutti sanno che poi alex farà l'audizione alla shipley diciamo che lasciamo un mimo di suspense lo sanno tutti comunque tu sei un insegnante di danza io nella vita sono anche un insegnante di danza perché io sono un ex ballerina e dirigo una scuola di danza classica per cui diciamo che sono molto vicina al personaggio di anna forse non sono così vecchia no come età no ovviamente però come spirito si è ora veramente un personaggio un personaggio troppo troppo simpatico che in coppia in coppia con lorena crepaldi diciamo che facciamo una coppia la famosa quella coppia che si ritrovano anche nel cinema un giorno il nostro il nostro regista residente ci ha soprannominate anne luise perché ne facciamo un po insomma abbiamo questa intesa bella un'intesa fortissima molto forte molto comiche potremmo anche andare a braccio senza copione in palcoscienza ma sappiamo come come direbbe luise e ovviamente anne si vede si vede molto l'affinità anche perché ci conoscevamo già insomma dillo dillo che quando io ero in accademia in speed lei era la mia maestra di recitazione e quindi abbiamo il destino è la prima volta che vi ritrovate insieme sul palco è la prima volta che io ho una badante e che io faccio io la badante ecco una prima volta per tutte e due le signore infatti ancora in prova non so se la stimolo a tempo indeterminato ecco ma poi ci fai sapere se l'assume xd ovviamente non aggiungo altro perché il finale ovviamente è molto diverso rispetto al film nell'adattamento teatrale dichiara noschese invitate il pubblico a venire a teatro adiciamo Come lo inviterebbe Anna? Cosa fate su quelle poltrone? Venite a teatro, venite a vedere la bicchiaia che incombe su di me. Che incombe? No, venite a teatro perché lo spettacolo ne vale la pena, soltanto Valeria Belleudi vale il prezzo del biglietto. Quindi non potete non vedere questa donna bionica meravigliosa. È una donna bionica Valeria Belleudi. Concordo, concordo. È strepitosa. Se non venite a vedere Valeria, perdete l'occasione di vedere un'artista completa, perché Valeria canta, recita e danza alla grande ovviamente. Ovvio, ho visto, ho visto. Questa è la verità. E poi almeno la regia di Chiara è nuova, è sveglia, è sveglia, è svezzante, non è la sua, è un nuovo polpettone. È un nuovo flash dance. Venite a vederlo perché... Fino al 31 dicembre al Teatro Nazionale che bacca. Vi aspettiamo! Buono spettacolo! Ciao! 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 Ciao!